E' l'ultima puntata di settembre del nostro programma regionando in attesa degli appuntamenti con le sedute chiave del prossimo mese. Facciamo il punto sull'attività delle commissioni, parliamo dei conti, del bilancio consolidato e soprattutto vediamo le tante iniziative che si sono svolte qui in questi giorni. Il maltempo non dà tregua purtroppo alla Toscana e flagella la nostra regione con una preoccupante frequenza. Gli ultimi episodi ci sono stati lunedì scorso nella zona tra la Val di Cecina e la costa sud di Vivorno dove purtroppo si è registrata anche la tragica scomparsa di un bambino piccolo e di sua nonna. Anche questa tragedia è un motivo in più per il Consiglio regionale di riflettere sull'importanza della prevenzione anche attraverso il lavoro della Commissione sull'alluvione del 2023. Il Corecom ha promosso un confronto sulla conciliazione nelle controversie telefoniche e sull'alfabetizzazione digitale particolarmente importante appunto per prevenire truffe ed equivoci. Ne parleremo, spiegheremo anche i servizi che in particolare in Toscana offre oggi il Comitato. Numerose altre le iniziative che si sono svolte qui o che qui sono state presentate. Ne faremo una sintesi anche in regionando. Spicca un riconoscimento il gonfalone d'argento che è stato assegnato all'Istituto Lama Zonkapa di Pomaia. Il maltempo porta altre vittime in Toscana. L'ultimo dramma si è consumato lunedì in pochi minuti in una zona di campagna al confine tra i comuni di Castelnuovo e Montecatini-Val di Cecina. L'onda è impetuosa. Di acqua e fango ha trascinato via il piccolo Noa a 5 mezzi e la nonna Sabin. Le piogge torrenziali di quelle ore, molto più forti del previsto, hanno provocato esondazioni e frane in tutta la parte sud della provincia di Livorno e nella Val di Cecina, in provincia di Pisa. La viabilità è stata compromessa. Ci sono stati molti allagamenti e danni. Prima sono finite sott'acqua Donoratico, Marina di Castagneto, la stessa bolga di alcune zone intorno a Castagneto e San Vincenzo. Poi la perturbazione molto veloce si è spostata verso est e ha interessato altre località all'interno. Intanto in queste settimane prosegue il suo lavoro qui a Firenze, la commissione d'inchiesta sugli eventi alluvionali dell'anno scorso. Continua un'azione di approfondimento senza polemiche, dice la Presidente Elisa Tozzi e il Vice Presidente Francesco Gazzetti sottolinea l'estrema attualità di questa riflessione. L'assessore regionale alla protezione civile intervistata nei nostri telegiornali torna però ad avvertire allo stato attuale, potrebbero esserci nuovi dischi dopo quello che è accaduto appunto nell'autunno scorso. Nei prossimi giorni, a distanza di un anno dalla sua adozione, torna all'esame di tutto il Consiglio del Piano Regionale dei Difiuti per l'approvazione definitiva. C'è già stato in realtà in questi giorni un passaggio in commissione. Sono diverse le osservazioni accolte, alcune solo parzialmente, altre sono state respinte o giudicate non pertinenti. Impianti, bonifiche, costi dei servizi sono gli argomenti che ricorrono di più. Su proposta della Presidente, la commissione procederà in una prima fase proprio all'approfondimento delle osservazioni e contro deduzioni presentate e vagliate. È iniziato da poco invece l'ITER in commissione bilancio della proposta di legge valorizzazione della Toscana diffusa, un testo presentato dal Presidente della Regione Gianni nel corso di un evento del 20 settembre. C'erano sindaci, rappresentanze istituzionali e delle categorie economiche e sociali. La legge ha 27 articoli, interessa 172 comuni, due terzi del totale. Si propone, c'è scritto, di ampliare e rendere strutturale l'insieme degli interventi messi in campo dalla Regione, le esperienze già consolidate e quelle pilota portate avanti negli ultimi anni in modo da promuovere una crescita equilibrata e la parità dei diritti di tutti i residenti in Toscana. Insomma, negli intenti perlomeno di chi la promuove questa legge, serve per rendere più omogenea la nostra Regione. La stessa commissione ha dato il via libera per la discussione, il voto in aula, la seconda variazione di bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Schieramenti divisi, favorevole alla maggioranza, contrario a tutta l'opposizione. Lo stesso è accaduto per il resto della manovra, il documento di economia e finanza regionale, l'integrazione alla sua nota di aggiornamento e gli interventi collegati. La commissione sanità prosegue l'esame della proposta di legge sul trasporto sanitario. Ci sono state nuove importanti audizioni, quelle delle associazioni di volontariato che garantiscono il servizio. La prima modifica richiesta è quella di ridurre da 3 a 2 le tipologie di attività di trasporto. Il trasporto sanitario di base è quello di soccorso avanzato, togliendo la dicitura della presenza di medici e infermieri. E poi c'è la richiesta che al momento dell'adeguamento ai nuovi requisiti, il 18 dicembre, ma la domanda è anche di rinviare questo termine, i soggetti autorizzati debbano dichiarare a quale tipologia di attività l'adeguamento si riferisca e che il Comune debba ridenominare le autorizzazioni secondo le nuove tipologie. La Commissione è anche a lavoro sul testo di una proposta di iniziativa popolare presentata dall'Associazione Coscioni sul suicidio medicalmente assistito dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Le audizioni sono state, questa volta, con i rappresentanti delle aziende sanitarie che hanno sottolineato come in carenza di una legge ci si trovi davanti ad alcune criticità ed è dunque necessario che la Regione faccia una propria legge. All'interno della stessa Commissione la maggioranza ha votato poi per istituire la figura dell'assistente all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità per le persone con disabilità. Intanto è stato diffuso il programma della giornata della salute mentale 14 eventi fino al 10 ottobre, il giorno in cui anche Palazzo del Pegaso aderirà all'iniziativa L'Italia si Illumina di Verde. Il programma è promosso dal coordinamento toscano delle associazioni per la salute mentale. Sì, il 10 ottobre è una giornata simbolo ovviamente come tutte le giornate che però sono importanti perché ci richiamano l'attenzione della politica dei cittadini e dell'associazione di tutti sul tema della salute mentale. Un tema molto importante che coinvolge centinaia e centinaia di cittadini che ha visto negli anni 70 una grande rivoluzione di civiltà che però oggi ha bisogno di essere corroborata, ha bisogno che il sistema sanitario, il socio sanitario che è comunque un sistema in affanno riconosca l'importanza di continuare a investire in salute mentale. Noi ci teniamo a presentare due aspetti, fra gli altri, particolarmente significativi. Faremo un nostro convegno, diciamo così, principale dedicando al tema della salute mentale nella società multiculturale. Questo perché ci rendiamo conto che le società stanno cambiando, le nostre comunità stanno cambiando e laddove ci sono servizi che sono in grado di rispondere alla multiculturalità sono servizi che rispondono meglio per tutti. Questo è un concetto fondamentale. E quindi a Lucca il 29 settembre approfondiremo questo tema. L'altro tema su cui noi ci teniamo molto e che molte associazioni sul territorio si stanno impegnando è il lavoro nelle scuole, cioè con le generazioni, in modo particolare con le scuole superiori. A questo punto torniamo però indietro su un argomento dibattuto nell'ultima seduta del Consiglio. Parliamo del bilancio consolidato. Cos'è? È quello che evidenzia i risultati complessivi del gruppo amministrazione pubblica. L'acronimo è GAP, cioè la regione più gli enti e le società considerate rilevanti. Sono 21, comprende conto economico, stato patrimoniale, relazione sulla gestione, che a sua volta include nota integrativa, relazione del collegio dei revisori dei conti. È stato approvato chiaramente quello del 2023, il valore della produzione è di 11,8 miliardi, aumenta di 450 milioni, il risultato economico di esercizio è di 90 milioni, a confronto subito alle opinioni di Presidente e Vicepresidente della Commissione Controllo. Il bilancio consolidato della regione conferma i numeri in chiaro scuro. Ci sono circa 2 miliardi e 80 milioni di indebitamento complessivo, c'è un patrimonio netto di meno 700 milioni, Termini Montecatini S.P.A., la società che ha il 70% di quote da parte della regione toscana, che esce dal gruppo amministrazione pubblica e quindi dal bilancio consolidato, perché sappiamo essere concordato presso il Tribunale di Pistoia. È quindi una situazione complessa, in alcuni casi mancano società o fondazioni di rilievo, come per esempio il Maggio Musicale Fiorentino, che ha una produzione complessiva e sfiora 100 milioni di euro, mentre si mettono per legge alcune società o enti o fondazioni che hanno un valore molto più basso. Per quanto riguarda i dati negativi, colpisce il dato negativo di sviluppo toscana, che fa un utile negativo, scusate, una perdita, di circa 280 mila euro, e naturalmente nel complesso si tratta di un'organizzazione enorme che dà servizi che per noi giudichiamo assolutamente insufficienti. Di tutt'altro avviso sono i rappresentanti della maggioranza. I conti avrebbero potuto essere ancora più migliori qualora avessimo potuto beneficiare di risorse come il payback in materia sanitaria, 392 milioni, rispetto al quale la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione Toscana appunto nel diritto di esigere queste risorse, oltre a circa 120-130 milioni di minori trasferimenti dal Fondo Sanitario Regionale. Ciò nonostante la situazione complessiva degli enti che compongono il perimetro del bilancio consolidato è una situazione positiva. Solo sviluppo toscana ha un dato negativo di circa 270 mila euro, ma questo è dovuto al fatto che la programmazione europea è iniziata tardi e quindi la società che lavora soprattutto su questi fondi ha un ritardo nell'attività. Naturalmente sul tema di dibattito è molto vivace, ancora la maggioranza. Un bilancio che chiude in equilibrio, è importante tenere in sicurezza i conti della Regione Toscana, denota solidità della Regione, ma anche del gruppo della Regione, tutte le aziende che fanno e afferiscono alla Regione Toscana. È evidente che questo dimostra la nostra tesi, come nel 2023 siamo stati in equilibrio, noi siamo convinti che questo equilibrio lo si possa raggiungere anche nel 2024. Questo spiega la battaglia che Italia Viva ha fatto contro l'aumento delle tasse e la battaglia che faremo nei prossimi tre mesi per rivedere quella misura, per cercare di tenere in equilibrio i conti, anche nel 2024, in equilibrio di bilancio, senza chiedere nessun sacrificio ai cittadini toscani, riducendo le tasse e soprattutto portando avanti l'avvertenza da parte della Regione Toscana nei confronti del payback per riottenere un credito dovuto. Le opposizioni parlano di strumento utile, ma sottovalutato dalla stessa Giunta regionale. Quelli che sono i conti della Regione, quindi un momento fondamentale di verifica dei quattrini dei toscani e di come vengano utilizzati totale assenza di Giunta e di Presidente della Regione. Così come l'avevamo già messo in evidenza anche durante la Commissione Controllo, l'atto dei revisori dei conti, il parere, arriva costantemente in grande ritardo ed è un atto spesso di natura poco più che formale. E anche questo non è utile all'approfondimento perché avremmo invece avuto la possibilità con una tempistica diversa di chiamare e ascoltare i revisori, approfondire meglio determinati aspetti e portarli in aula per favorire un confronto più alto. Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, è stato eletto di nuovo nel Comitato Europeo delle Regioni. Lo ha deciso l'Assemblea plenaria della conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni che si è riunito il 26 settembre. è un modo questo per avvicinare ancora di più la nostra regione all'Europa. Ed è stato lo stesso Mazzeo a consegnare il gonfalone d'argento all'Istituto Lama Tsongkapa di Pomaia, centro internazionale per lo studio e la pratica del buddismo tibetano, tra i più importanti d'Europa. A proporre questo riconoscimento era stato il consigliere segretario Diego Petrucci e l'ufficio di presidenza aveva votato favorevolmente all'unanimità. Il centro di Pomaia, per tutti coloro che hanno appunto come riferimento il buddismo, è un centro che ha rilevanza nazionale e internazionale. Il fatto che il Consiglio regionale della Toscana voglia dare un riconoscimento così importante, il massimo riconoscimento che può dare il Consiglio regionale all'Istituto di Pomaia è sicuramente una bella notizia. Il buddismo è una fede pacifica che crede nel dialogo anche interreligioso. Noi già nella scorso 30 novembre per la festa della Toscana avevamo invitato i rappresentanti delle tre religioni monoteiste qui in Consiglio regionale per festeggiare la Toscana. Questo è un ulteriore passo che va in quella direzione. In più c'è la battaglia per il popolo, per l'identità, per la cultura tibetana che viene ogni giorno affrontata dall'aggressione cinese rispetto alla quale è giusto che il mondo occidentale e che anche il Consiglio regionale della Toscana non rimanga in silenzio. È un riconoscimento all'Istituto di Pomaia che in questi anni ha svolto un grande lavoro di accoglienza, di inclusione, in grado di parlare anche a chi professa fedi differenti. In un mondo di guerra, come quello che stiamo vivendo ora, c'è bisogno di luoghi di pace, di luoghi in cui costruire pace. E questo di Pomaia ha una funzione fondamentale. In questi anni abbiamo lavorato tanto insieme, abbiamo fatto buona politica perché non era scontato in pochi anni riuscire da un progetto, da un'idea, a trasformarlo in un fatto. La realizzazione del primo monastero buddista in Italia. Questo è grazie al lavoro fatto dall'amministrazione comunale, dalla sindaca Giamila Carli, dalla regione. Un lavoro di squadra e penso che, insomma, oggi questo riconoscimento è un modo per dirgli grazie, ma anche un modo per, non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per arrivare alla realizzazione del monastero. All'inizio della cerimonia c'è stata una preghiera per le vittime del maltempo. La comunità buddista di Pomaia è attiva da quasi 50 anni. I suoi rappresentanti si dicono molto soddisfatti del riconoscimento. È un riconoscimento importante per l'Istituto L'Amazon Kaba che dal 1977 ad oggi ha portato avanti un messaggio di pace, di inclusione nel territorio, con la comunità locale e anche a livello internazionale compatibilmente con le proprie possibilità per quelli che sono anche i diritti umani nel Tibet, per la pace in Tibet e nel mondo. Quindi è molto importante questo riconoscimento a parte della nostra regione. Noi ci ispiriamo alle parole di Sua Santità al Dalai Lama e ovviamente di tutti i nostri maestri che ci hanno insegnato che l'Istituto è un posto aperto a tutti, è un luogo di pace, è un luogo dove poter aprire i propri cuori e le proprie menti per trovare un po' di tranquillità. Quindi noi da sempre crediamo nel dialogo interreligioso, nell'accoglienza e nel diffondere uno spirito davvero di fratellanza. C'è un premio anche per l'eccellenza in matematica, qui in Consiglio regionale lo ricevono due dei sei ragazzi che hanno partecipato in rappresentanza dell'Italia alle Olimpiadi della Matematica 2024. In Inghilterra sono i toscani Simone Melis, medaglia d'argento, e Matilde Iannacone, bronzo, il primo studente del liceo Foresi di Portoferraio, l'altra del liceo Dini di Pisa. L'esperienza in sé per te è stata molto preziosa, sia per le persone che ho conosciuto, sia per i problemi e tutto l'ambiente con cui una persona entra in contatto una volta che si trova là a ragionare con tante persone, con la mia stessa età e la stessa passione. Si crea proprio un bel feeling. L'esperienza mi è piaciuta molto, poi fortunatamente conoscevo anche gli altri ragazzi che sono venuti con me, e poi la gara in sé mi è piaciuta, in generale i problemi erano carini, mi è piaciuta e poi ho conosciuto tante persone da altre parti del mondo e sia stata una bella esperienza. Dai numeri della matematica a quelli dello sport, come avete visto nei nostri telegiornali c'è stato un momento di festa anche per la squadra di pallavolo FCL Zuma Pallavolo Castelfranco che giocherà il campionato nazionale di A2 femminile. Una promozione storica per la società pisana che ha vinto il campionato di Serie B1 e anche la Coppa Italia di Serie B femminile. Sì, sarà un'avventura sicuramente particolare, siamo contentissime di aver coronato un sogno lo scorso anno di far parte di questo campionato di Serie A. Sarà sicuramente un'annata difficile, però siamo un gruppo già molto unito e prevedo delle belle soddisfazioni. Bisognerà iniziare a giocare con un buon ritmo e ogni volta scendere in campo con l'idea di poter riuscire a vincere dei punti. Quanti? Ovviamente io non lo so, ma c'è la possibilità di poterlo fare e dobbiamo avere la convinzione e la consapevolezza che ogni gara sarà una battaglia. Il Correcom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni promuove nuove interessanti iniziative stavolta sulle controversie telefoniche che sono numerosissime in questo periodo. Titolo dell'iniziativa che ha coinvolto altri dieci Correcom d'Italia è Che fa? Concilia? Secondo noi è un tema sicuramente di grande rilevanza quello di far conoscere ulteriormente i servizi del Correcom e in questo specifico tutto il tema delle conciliazioni. Noi anche nel 2023 abbiamo ricevuto oltre 4.900 istanze gran parte di queste poi oltre l'80% giunge a un accordo in fase di conciliazione e restituiamo attraverso questa opera a titolo gratuito oltre mezzo milione di euro nei confronti di cittadini e imprese che appunto hanno degli indennizi rispetto a queste controversie telefoniche. C'è un tema generale di alfabetizzazione digitale su questa tematica perché si accede attraverso la piattaforma del concilia web per cui c'è questo tema generale di formazione che anche la Toscana deve in qualche modo vedere sempre crescere e favorire e poi c'è un tema anche di stare attenti a chi si spaccia per il core interviene anche la Gcom l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni che sottolinea proprio l'importanza della piattaforma concilia web questa è una best practice come si dice con termini molto in voga però è vera è stato il primo tentativo da vent'anni in Italia esiste che consente diciamo di superare le angosce di andare in giudizio anche per piccole somme o per questioni della vita quotidiana è talmente valido il sistema che si chiama concilia web e che fin dal 2018 consente di farlo online che tra virgolette è stato gratuitamente ceduto anche ad altre autorità quella dei trasporti che ha sede a Torino e che fa le controverse con il medesimo sistema per cui diciamo è una pratica vincente e ricordiamolo assolutamente non onerosa per gli utenti cosa che insomma va sempre adeguatamente ponderata Antonio Mazzeo coordina i rapporti dei consigli regionali con i Corecom di tutta Italia e partecipa all'iniziativa questa iniziativa serve a costruire maggiore sensibilità tra i cittadini nel conoscere che esiste un luogo il Corecom in cui le controversie quelle telefoniche specialmente possono essere gestite possono essere valutate e può essere data risposta evitando un contenzioso di tipo legale questa è la riflessione che stiamo portando avanti sono contento che venga svolta qui in Toscana ringrazio Agicom ringrazio i Corecom di tutta Italia perché questo è un lavoro che viene svolto a favore delle cittadine e dei cittadini noi oggi ci fermiamo qui non prima però di aver mostrato le immagini della mostra visitabile fino al 4 ottobre a Palazzo dei Pucci a Firenze si intitola Natura e oltre raccoglie dipinti di Duilio Tacchi davvero molto belli noi ci rivediamo venerdì 4 ottobre alle 21.10 sempre dopo il nostro Tg della Sera Grazie a tutti